AVR è l'associazione italiana dei produttori di valvole e rubinetti. È suddivisa in quattro comparti. Ogni comparto esprime un vicepresidente, in modo da garantirne la piena rappresentatività ai vertici dell'associazione. Sanitario, bronzo e ottone, industriale, raccorderia e componentistica. Un'associazione storica, nata nel 1952, dove tecnologia e conoscenza si incontrano col fine di generare strumenti utili alla gestione dell'acqua e dei fluidi a favore dell'industria e delle persone. Federata ad Anima, federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia e affine, AVR raggruppa oggi oltre 60 tra le più qualificate e prestigiose aziende del settore. AVR rappresenta un settore che coinvolge 27.000 addetti ed un fatturato di 7,5 miliardi di euro, di cui oltre il 65% è destinato all'export. È anche fondatrice e membro di CEIR, l'associazione europea dell'industria di valvole e rubinetteria, che coordina e mette in comunicazione le singole associazioni nazionali con gli istituti europei di standardizzazione. AVR è il punto di riferimento dei produttori di valvole, rubinetti, attuatori e raccorderie, riconosciuta in Italia e nel mondo come principale influencer istituzionale di mercato tecnico, normativo e formativo. AVR esprime la qualità della migliore produzione italiana di valvole, rubinetti, attuatori e raccorderie, influenza positivamente i referenti politici e normativi di riferimento per tutti i suoi settori. L'associazione assicura competenze di massima utilità per gli operatori della filiera, allo scopo di supportare concretamente lo sviluppo e la crescita delle aziende. La stretta osservanza dell'etica del lavoro e il forte senso di appartenenza sono il collante che rende unica AVR, che rappresenta il made in Italy del settore nel mondo. Associarsi ad AVR offre molteplici vantaggi alle aziende, attività di lobbying tecnica e legislativa a livello europeo e italiano, partecipazione ai workshop tecnici riguardanti le normative sui prodotti, networking con le altre associazioni a livello internazionale sulle normative e gli standard mondiali, accesso a servizi di consulenza e percorsi formativi gratuiti o a prezzi agevolati, in collaborazione con enti privati, istituti tecnici e università, partecipazione ad eventi di promozione internazionale e B2B. AVR intrattiene rapporti e organizza eventi con le associazioni dei distributori di valvole e rubinetti, facilitando l'incontro dei produttori con potenziali clienti. AVR, attraverso il CEIR, Orgalim e Confindustria, si sta facendo portatrice sia a livello nazionale che internazionale delle richieste del mondo dell'industria su Revisione del DM174 sui materiali a contatto con l'acqua, la macchina e sua revisione, regolamento direttiva PED e sua revisione, direttiva RAE, direttiva UE 2020-2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, rifusione, regolamento prodotti da costruzione, direttiva RICH e banca dati SHIP, Direttiva ROS AVR inoltre è presente in oltre 50 tra i principali tavoli decisionali del comparto valvole e rubinetti che rappresenta Italia 25 gruppi di lavoro, Uni, CIG, CTI Europa 17 gruppi di lavoro, CEN, ECIS Internazionale 10 gruppi di lavoro, ISO e IEC www.AIMS-LU.A.W.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.